Valentino Rossi diventerà padre per la seconda volta. La compagna Francesca Sofia Novello è incinta. La coppia, che già ha una figlia, Giulietta, nata marzo 2022, ha annunciato la lieta notizia con alcuni dolci scatti su Instagram. Nell'annuncio l'ex pilota di MotoGP indossa un camice da dottore e ausculta il pancione di Francesca Sofia Novello, mentre la piccola Giulietta è accanto a loro. La Francia è incinta, aspettiamo un'altra bambina, hanno scritto a corredo della foto. La famiglia di Valentino Rossi si allarga con la seconda gravidanza di Francesca Sofia Novello. La coppia ha scelto di condividere la notizia su Instagram con foto romantiche in cui Rossi indossa il camice da dottore. In una delle immagini lui ausculta il pancione della compagna, mentre la figlia Giulietta è al loro fianco. È sicuramente una femmina, dottore. La Francia è incinta, aspettiamo un'altra bambina, hanno scritto. Anche il secondo bebè sarà una femmina, nonostante il desiderio di entrambi per un maschietto. La data del parto non è stata ancora rivelata, ma è probabile che avverrà entro la fine dell'anno.